Buon lunedì e bentornati sul mio canale. Oh, se siete nuovi, benvenuti. Sono Elisa True Crime e come ogni lunedì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Il caso di oggi è forse il caso che mi avete richiesto di più e io ho aspettato a farlo perché nel frattempo mi stavo documentando, ho letto il libro, sul caso ho guardato tutte le interviste, tutti i processi, su questo caso sono diventata un'esperta. Mi sento quasi parte della famiglia Menendez. Finalmente vi porto il caso dei fratelli Menendez. Molti di voi lo conosceranno già perché appunto me l'avete chiesto davvero in tantissimi, quindi lo saprete già. Per chi non lo sa, questo è un caso molto controverso, uno di quei casi in cui vorrò sapere poi la vostra opinione. Io personalmente non so bene che cosa credo, ma la mia opinione ve la darò negli ultimi minuti di video, se vi interessa. Ora mettetevi comodi, prendete uno snack, una birra, quello che volete perché questo sarà un video molto lungo e tortuoso. Perché forse questo è il caso di cronaca nera più famoso negli Stati Uniti d'America. Come sempre prima di arrivare al punto dobbiamo fare un attimo un passo indietro nella vita dei, diciamo, protagonisti di questa storia. E partiamo con José Menendez. José nasce e cresce a Cuba e ha sempre mostrato un carattere forte, fin da quando era bambino. È sempre stato un po' il bulletto del quartiere, gli altri bambini avevano paura di lui. Suo padre era un famoso giocatore di calcio e sua madre era una nuotatrice di successo. E facevano una bella vita, non erano straordinariamente ricchi e famosi, ma stavano bene. Questo fino alla rivoluzione cubana nel 1959, in cui praticamente perdono tutto quello che avevano. Ma José non era uno che si arrendeva facilmente e tantomeno che stava lì fermo ad aspettare che le cose si risolvessero. Quindi decide all'età di 16 anni di prendere tutto e trasferirsi negli Stati Uniti in Pennsylvania. Quando arriva in America José è praticamente senza soldi e non parla una parola di inglese. Ma nonostante questo, José decide che prima o poi sarebbe diventato il presidente di una grande compagnia americana. Quello era il suo obiettivo. Voleva essere un uomo di successo e non avrebbe accettato niente che fosse meno di quello. Ed è proprio questo, questa sua arroganza, questa sua presunzione che si porterà dietro per tutta la vita e che diventerà un po' il suo marchio di fabbrica. Dopo un po' di tempo capisce che per raggiungere i suoi obiettivi ha bisogno di una laurea in una scuola che sia buona. Quindi inizia a frequentare la Southern Illinois University in cui incontra quella che sarà la sua futura moglie, Mary Louise Anderson, soprannominata Kitty. Si sposano nel 1963 quando José ha soltanto 19 anni e Kitty è più grande di lui e ne ha 21. Kitty è nata nel 1941 da una buona famiglia. Era la classica ragazza americana e i suoi amici la prendevano in giro scherzosamente per il suo coraggio nel fidanzarsi con un cubano. Per loro quella era stata una mossa molto coraggiosa per Kitty. Infatti la sua famiglia non appoggiava assolutamente questa relazione e hanno dovuto sposarsi in segreto. Crescendo i genitori di Kitty divorziano e questa cosa per Kitty è stato davvero un duro colpo. Il divorzio ad oggi è una cosa assolutamente normale ma negli anni 50 non era vista per niente bene come cosa. Quindi quando il padre di Kitty lascia sua madre oltretutto per rifarsi una vita con un'altra donna è stato un po' uno scandalo nel loro quartiere. E Kitty rimane traumatizzata da questa cosa. Da quel momento Kitty sviluppa una paura nel legarsi con le persone, ha difficoltà anche a legarsi e ad aprirsi con i suoi amici. Ma quando conosce José perde letteralmente la testa anche perché José la corteggia insistentemente perché quando José vuole qualcosa la ottiene. Dopo essersi sposati si trasferiscono a New York dove José fa il lavapiatti in un locale per potersi pagare gli studi. E si era fatto trasferire dall'università che frequentava prima all'università del Queens a New York in cui prende una laurea contabile. E subito dopo aver preso la laurea trova subito lavoro in un'importante azienda contabile e impressiona tutti. Impressiona tutti con il suo carattere forte, con il suo carisma. E poco tempo dopo riesce ad impressionare un'altra grande azienda che decide di assumerlo e soli tre anni dopo ne diventa il presidente. A soli 35 anni José Menendez era il presidente dell'azienda Hertz. Sapete l'azienda di macchine a noleggio che trovate in tutti gli aeroporti? Dopo un po' cambia di nuovo lavoro e viene assunto dalla RCA che era un'importante casa discografica americana che produceva gruppi come i Duran Duran. E dopo un anno in questa azienda José diventa direttore esecutivo e guadagna ben mezzo milione di dollari all'anno. José stava vivendo praticamente il sogno americano. Era arrivato in America, da Cuba, con niente in tasca. Si era fatto da solo e stava vivendo una vita da sogno. E tutto grazie soltanto alla propria determinazione, a questo carattere forte che lo contraddistingueva. Nel frattempo Kitty lavorava come insegnante full time in una scuola, ma decide di lasciare il lavoro e fare la mamma full time, quando dà la luce i loro due figli, Lyle ed Eric. Quindi da fuori la famiglia Menendez sembra davvero la famiglia perfetta. Sembrava avessero tutto, ma come ormai sapete le cose non sono sempre come sembrano, se no non saremmo qua a parlarne. Il figlio maggiore si chiama Joseph Lyle Menendez, ma era chiamato da tutti Lyle. Ed era nato il 10 gennaio del 1968, mentre il figlio minore, Eric Gallen Menendez, nasce il 27 novembre del 1970. La famiglia Menendez a un certo punto si trasferisce nel New Jersey ed Eric e Lyle vengono mandati alla Prep School, che è una scuola in cui tipicamente vanno i ragazzi ricchi in America. è una scuola che praticamente punta alla preparazione del bambino, da quando è molto piccolo fino all'età del college. È proprio una preparazione al college. E questo perché José voleva il meglio per i suoi figli. Voleva che fossero perfetti. In realtà lo erano, sembrava che José li avesse ordinati da un menù. E José inizia ad educarli al successo, fin da molto piccoli. Non li lasciava giocare con chiunque e gli vietava di accompagnarsi a bambini che lui riteneva sfigati. Perché come gli ricordava continuamente, se sei debole, perdi. Se ti accompagna una persona debole, diventi debole anche tu e quindi sei un perdente. José non risparmiava un centesimo quando si trattava dei suoi figli. Gli comprava tutto quello che volevano. Non gli faceva fare neanche un lavoro di casa, in modo che potessero solo concentrarsi su una cosa. Gli sport. Ma niente era mai fatto per divertimento. Sia che si trattasse di nuotare nella loro piscina, sia che si trattasse di giocare a pallone sul prato davanti casa. Per José Menendez era tutto sempre una competizione. Un'occasione per i suoi figli di dimostrare di essere dei vincenti. Quindi alla fine dopo un po' anche giocare per Lyle ed Eric è diventato come un lavoro. Non era più divertente. Addirittura i due fratelli raccontano che la sera quando si sedevano tutti a tavola per cenare, José aveva preso questa abitudine da quando erano piccoli di fargli delle domande, delle domande di cultura generale. E se uno dei due non sapeva la risposta, allora dovevano alzarsi e andarla a cercare su un dizionario o su un'enciclopedia e non potevano mangiare finché non avevano la risposta corretta. Ma José sapeva che i suoi ragazzi non potevano essere perfetti proprio in tutto. E quindi quando Lyle aveva 12 anni e Eric ne aveva 9, si è seduto insieme a loro e ha fatto un lungo discorso in cui gli spiega che nella vita bisogna fare dei sacrifici se si vuole essere persone di successo e che gli dava l'opportunità di scegliere uno sport. Uno sport in cui dovevano eccellere. Potevano scegliere lo sport che volevano e lui gli avrebbe fornito i migliori allenatori, tutto il necessario senza badare a spese, perché diventassero delle star in quello sport. Lui non voleva solo che fossero di successo, lui voleva che diventassero campioni nazionali. Al che i ragazzi scelgono e scelgono il tennis. Ed erano davvero bravi a tennis, avevano davvero un talento. E José li faceva allenare tutti i giorni, sia prima di andare a scuola, sia dopo la scuola e poi il weekend tutto il giorno. Crescendo ovviamente il controllo di José sui suoi figli è andato solo peggiorando. Controllava qualsiasi cosa, chi fossero i loro amici, con quali ragazze potevano o non potevano uscire, perché la famiglia aveva una reputazione e i suoi figli dovevano rispettarla e portarla avanti. Nel 1986 José passa dall'industria musicale a quella cinematografica e viene assunto da questa casa di produzione cinematografica di nome Caro Loco, che poi però ha cambiato nome e è diventata Live Entertainment. Ed è la casa che ha prodotto film come Rambo. Quindi una casa importante, di cui José diventa il presidente. E in realtà all'inizio questa casa di produzione non stava andando benissimo, anzi aveva perso tantissimi soldi, aveva un sacco di debiti, ma José era convinto di poter rialzare i loro guadagni e ci riesce, facendogli guadagnare il primo anno 8 milioni di dollari e il secondo anno duplicando questa cifra. E questo lavoro si trovava ovviamente dove se non a Hollywood, in California. Quindi la famiglia decide di trasferirsi di nuovo. E si trasferisce a Calabasas, in California, che è una zona molto molto ricca, se non sbaglio dove abitano le Kardashian, per farvi capire un po' che zona è. E vanno a vivere in questa casa allucinante, gigante, bellissima. Ma questo trasferimento per Kitty è davvero un duro colpo, perché Kitty si era fatta una vita in New Jersey, si era fatta degli amici, aveva le sue cose e non voleva proprio lasciare tutto quello che si era costruita, ma sapeva che tanto con José sarebbe stata una battaglia persa. Perché per José l'unica cosa importante era quello che voleva lui e i suoi figli. Anzi, che i suoi figli facessero quello che voleva lui, quindi alla fine è la stessa cosa. Per José l'unica cosa importante era José. E col tempo il rapporto tra José e Kitty era cambiato. Lei non era più quella ragazza giovane, bella e vivace che José aveva conosciuto. Mentre invece José più invecchiava e più si sentiva bello, ricco, potente. E queste cose dopo un po' hanno attirato nella vita di José anche tante fidanzate. José inizia a tradire Kitty spesso e volentieri e Kitty lo sa. Ma per Kitty il divorzio è fuori discussione. Non vuole assolutamente finire come i suoi genitori. E quindi si distrae bevendo tantissimo e facendo uso di svariati psicofarmaci. Crescendo Eric e Lyle sono molto molto uniti. Hanno diversi amici ma sono sempre loro due, sempre insieme. Qualcuno dei loro amici racconta che spesso si sono sentiti traditi da Eric e Lyle, che hanno spesso avuto da ridire con loro. E questo perché i fratelli Menendez erano cresciuti coi valori del padre, ovvero che bisognava vincere ad ogni costo. E questo comportava il fatto che spesso tradissero gli amici, spesso mentissero. Non sapevano cosa fosse la lealtà, l'onestà, erano spesso molto aggressivi. L'unico obiettivo per loro era vincere e il fine giustificava ogni mezzo, come gli aveva insegnato il loro padre. La vita di Lyle è stata un po' più dura rispetto a quella di Eric, perché essendo il figlio maggiore, José ha messo molta più pressione su di lui rispetto ad Eric, che era il figlio minore. E questa cosa capita spesso, no? Capita spesso che il figlio maggiore si senta con molte più responsabilità rispetto al figlio minore. Ma in questo caso José era proprio crudele con Lyle. Una cosa che faceva spesso era mortificarlo per il suo aspetto fisico. E questo perché Lyle ha iniziato a perdere i capelli che aveva soli 14 anni. Ed era molto insicuro rispetto a questa cosa. E suo padre, a quanto pare, l'ha costretto a indossare un parrucchino. Cioè questo vi fa capire quanto fosse importante l'apparenza per José. Non poteva accettare che uno dei suoi figli non fosse perfetto. E di conseguenza ovviamente i fratelli sono cresciuti con tantissime insicurezze. E pensate che Eric non sapeva neanche che suo fratello Lyle indossava un parrucchino. E l'ha scoperto perché un giorno durante un litigio la madre Kitty gliel'ha strappato dalla testa, mortificandolo e umiliandolo perché stavano litigando. E ad un certo punto iniziano a ribellarsi un po'. Iniziano ad uscire diciamo con le persone sbagliate. Iniziano a frequentare un brutto giro. E un giorno tutti insieme decidono che vogliono fare qualcosa di ribelle. E quindi decidono di introdursi dentro casa di un tizio che conoscevano e derubarlo. Quindi lo fanno. Si introducono in casa di questo tizio mentre in casa non c'era nessuno. E rubano tantissimi soldi. Rubano gioielli, tutte le cose di valore che trovano. Ma ad un certo punto Lyle ed Eric decidono di escludere i loro amici. Decisono di voler fare questi colpi da soli. Così da potersi tenere tutti i soldi loro. Quindi si introducono in un'altra casa e questa volta rubano più di 100.000 dollari. Quindi non era proprio giusto una bravata da ragazzi. E ovviamente stiamo parlando di ragazzi super mega ricchi. Che non hanno bisogno di rubare. Lo fanno solo per noia. Per sentire un po' di adrenalina. Ma poco dopo uno di questi amici che i fratelli Menendez avevano escluso da questo colpo dice Ah sì? Andate a rubare senza di me? Tiè! E io ce lo dico alla polizia. E lo fa. Va dalla polizia e denuncia i fratelli. Le conseguenze sono state che ovviamente i fratelli hanno dovuto ripagare le persone che avevano derubato. E per riuscire a non farli finire tutti e due in prigione, José, oltre a pagare un sacco di soldi la polizia, ha fatto questa mossa. Dato che Eric era ancora minorenne, perché in America la maggior età è 21 anni, l'ha costretto a prendersi tutta la colpa. A dire che era stato lui e che Lyle non c'entrava niente. Questo perché Lyle aveva fatto da poco domanda per entrare a Princeton. E José non voleva rischiare di comprometterla. E se l'è cavata con qualche ora di servizio socialmente utile e delle sedute di psicoterapia. Viene costretto a, appunto, fare terapia regolarmente ed è qui che conosce il suo psicologo, il dottor Jerome Osio. E il dottor Osio sarà un personaggio molto importante in questa storia, di cui parleremo più tardi. E in tutto ciò, quando José scopre che i suoi figli derubavano case, non si arrabbia tanto per il fatto che avevano rubato. Si arrabbia perché si sono fatti beccare. I suoi figli dovevano essere più furbi di così. Ed era molto arrabbiato e deluso. Ma non era arrabbiato con i suoi figli, no. Era arrabbiato con i loro amici, che li avevano portati sulla cattiva strada. Nel frattempo, come ho già detto, Lyle aveva fatto domanda per entrare a Princeton, che è una delle scuole più esclusive al mondo. Ed era l'unica opzione possibile per José. E qui le delusioni per José continuano. Perché Lyle non viene accettato a Princeton al primo tentativo. Verrà poi accettato al secondo tentativo. E Lyle andrà a Princeton, ma per José il fatto che non l'abbiano accettato al primo tentativo è una grande delusione. Lyle aveva fallito. Ma le delusioni non finiscono qua, perché Lyle nel suo primo semestre a Princeton viene accusato di aver copiato. Praticamente aveva consegnato un compito copiandolo tale quale a quello che uno studente aveva consegnato l'anno prima. E Princeton è molto severa in questi casi. E José prova in tutti i modi a comprare il consiglio scolastico. Gli offre tantissimi soldi. Ma Princeton ha una politica molto rigida contro i truffatori. E finisce per sospendere Lyle per un anno intero. Al che Lyle torna a vivere a casa con Kitty, José e Eric. José era ovviamente molto arrabbiato e deluso per il fallimento di Lyle, ma anche questa volta non era tanto arrabbiato con Lyle, ma con Princeton, che l'aveva sospeso. Questo perché non era mai colpa dei suoi figli, era sempre colpa di qualcun altro. José non ha mai insegnato ai suoi figli a prendersi le responsabilità delle proprie azioni. Lyle, tornato a casa, prova addirittura a lavorare insieme a suo padre, alla Live Entertainment, ma la gente lo odiava. Lo reputava un ragazzino viziato, arrogante e fastidioso. E quindi, nonostante fosse il figlio di José, perde il lavoro. Dopo un po', la famiglia Menendez si trasferisce ancora. E questa volta si trasferisce a Beverly Hills, in una casa incredibile. Questa era una casa da 4 milioni di dollari, con 6 camere da letto su Elm Drive. Aveva un immenso giardino, una piscina, un campo da tennis, una casa per gli ospiti. Io non ho neanche la camera per gli ospiti, ma loro avevano la casa per gli ospiti. E tante persone famose avevano vissuto in questa casa precedentemente. Persone come Elton John, Prince, Michael Jackson. Quindi, di nuovo, da fuori sembrava che questa famiglia avesse tutto, e che il loro successo stesse solo crescendo. Invece da dentro era tutto l'opposto. José continuava a tradire sua moglie con diverse ragazze più giovani, e Kitty soffriva molto. A tal punto da avere spesso pensieri suicidi. Secondo la sua psicologa, Kitty era profondamente depressa, e aveva anche tentato di togliersi la vita diverse volte. Nel frattempo, invece, Eric è ancora al liceo, gioca a tennis, fa anche recitazione a scuola, e gli piaceva anche molto scrivere. Tanto che un giorno decide, insieme ad un suo amico di nome Craig, di scrivere una sceneggiatura. E la chiamano Friends, ma non il Friends che tutti conosciamo. Tra l'altro, ho la felta. Friends. Non questo Friends. Decisamente non questo Friends. Questa sceneggiatura parlava di un ragazzo giovane, molto ricco, che ad un certo punto decideva di uccidere i suoi genitori per la loro eredità. Ora, Eric fa leggere questa sceneggiatura a sua madre Kitty, e lei ne è assolutamente entusiasta. Non le è scattato nessun campanello d'allarme nella testa, era fiera di suo figlio, e lo supportava al 100% in questa cosa. Invece a José non poteva fregare di meno, non gli ha dato la minima importanza, e questo perché ormai José era definitivamente deluso da come i suoi figli erano cresciuti. Era deluso di tutti i fallimenti di Lyle, ma anche da Eric. Così tanto che ad un certo punto lui e Kitty decidono che forse è il caso di toglierli dal loro testamento, in modo che alla loro morte non avrebbero ereditato niente, o comunque avrebbero ereditato molto molto poco, con la speranza che in questo modo diventassero meno viziati e più responsabili. Cosa che a me personalmente fa ridere, perché hanno scelto di crescerli in un certo modo, viziati, arroganti, insegnandoli che nella vita non conta niente al di là dei soldi e dell'apparenza, e che non importa se nella vita bisogna barare per ottenere i propri scopi, l'importante è vincere ad ogni costo, per poi arrabbiarsi se effettivamente sono cresciuti in questo modo, e come soluzione togliergli l'unica cosa che, secondo il loro insegnamento, è importante nella vita, cioè i soldi. Wow, un ragionamento che non fa una piega. Quindi tra loro, come si può immaginare, c'era molta tensione, e questo ci porta al 19 agosto del 1989. Quel giorno José, Kitty, Eric e Lyle vanno tutti insieme per tutta la giornata su uno yacht, e passano la giornata lì in mezzo al mare. E il personale di bordo che c'era quel giorno insieme a loro racconta che la famiglia Menendez si comportava in modo strano rispetto al solito. Erano tutti molto freddi e distaccati l'uno con l'altro, e raccontano che semplicemente li hanno trovati diversi da come erano abituati a vederli. E la sera dopo, il 20 agosto del 1989, Kitty e José erano in casa loro, in tuta, a guardare la televisione, mentre Eric e Lyle erano andati al cinema a guardare un film, e dopo dovevano incontrarsi con un loro amico. Ma Eric si accorge di aver lasciato la sua carta d'identità a casa. E in America, senza la carta d'identità che dimostra che hai più di 21 anni, non puoi comprare da bere, non puoi comprare bevande alcoliche. Quindi i fratelli sono costretti a tornare a casa, a prenderla. E quando arrivano in casa, trovano i loro genitori, per terra, morti e ricoperti di sangue. E scusatemi se adesso entrerò un po' più nei dettagli di come sono stati trovati José e Kitty, ma secondo me è necessario per capire il caso, e per capire con quanta violenza siano stati uccisi. È stato usato un fucile a pompa, quindi immaginate quanti danni abbia fatto. I detective hanno detto che i corpi erano talmente tanto danneggiati, che si capiva a malapena che fossero degli esseri umani. José è stato trovato con un buco alla testa della grandezza di un pugno, e la sua testa era completamente esplosa. Questo voleva dire che qualcuno lo aveva colpito da molto vicino. Kitty era stata colpita al petto, al braccio, al fianco sinistro e alla gamba sinistra. E gli aggressori hanno sparato fino a terminare tutte le munizioni che avevano. E pare che a questo punto Kitty fosse ancora viva e abbia provato a rialzarsi per scappare, ma si è scivolata sul suo stesso sangue e si è caduta per terra. Al che gli aggressori hanno preso altre munizioni, sono ritornati dentro e hanno continuato a sparare. Colpendo Kitty alla faccia. E hanno continuato finché Kitty e José non sono morti. E dopo aver fatto tutto questo, hanno sparato ancora una volta a tutti e due alle ginocchia, gambizzandoli. Quindi immaginatevi la scena che c'era in quella casa. Eric e Lyle arrivano, vedono tutto ciò e chiamano subito il numero d'emergenza e questa è la telefonata. Quei qualci orari il riso? Il sinistra tutto l'aggetto? Ora, che s'è un uomo? quando la polizia arriva sulla scena trova i fratelli completamente isterici e sotto shock eric è praticamente collassato a terra in posizione fetale che non riesce a respirare non riesce a parlare riesce solo a urlare senza controllo anche lyle era sotto shock anche lui piangeva istericamente e cercava di consolare suo fratello la polizia dopo aver esaminato la scena nota che sia kitty che jose sono stati colpiti alle rotule e questa è una cosa che tipicamente fa la mafia quindi per la polizia quella poteva essere una possibilità e questo perché a quanto pare jose aveva diversi contatti e diversi intrighi nel crimine organizzato interrogano i fratelli per ore e ore anche loro sono d'accordo con questa teoria della mafia la polizia non chiedetemi perché ma decide di non fare tutta una serie di controlli sui fratelli per esempio quello per il rilevamento della polvere da sparo sulle mani o sui vestiti che dovrebbe essere una procedura standard per situazioni del genere e non ha neanche controllato la macchina dei fratelli e questo è stato un vero peccato perché se l'avessero fatto subito avrebbero scoperto che nella loro macchina c'erano le armi che lyle ed eric avevano usato quella notte per uccidere i loro genitori comunque non fanno questi test non controllano le loro macchine quindi nessuno sospetta dei fratelli menendez all'inizio perché la loro reazione all'arrivo della polizia sembrava davvero sincera la polizia però accantona molto in fretta la teoria della mafia perché comunque quando il crimine organizzato decide di far fuori qualcuno lo fa in maniera pulita veloce precisa questo invece era stato un massacro era stato un crimine incasinatissimo e soprattutto sembrava un attacco molto personale quindi iniziano a pensare che possa essere stato qualcuno che ce l'aveva con José come già detto José era un uomo molto arrogante con questo carattere molto forte e c'erano tante persone che lo odiavano soprattutto sul lavoro c'erano tante persone che lui aveva trattato male che aveva licenziato quindi interrogano tutte queste persone ma nessuna di queste lo odiava a tal punto o comunque non aveva un movente abbastanza valido per fare una cosa del genere nel frattempo Eric e Lyle continuano a comportarsi come se fossero devastati dalla morte dei loro genitori e anche molto spaventati iniziano a vivere in un hotel perché dicono di aver paura di dormire a casa loro hanno paura che le persone che hanno ucciso i loro genitori possano tornare per loro hanno assunto delle guardie del corpo indossavano giubbotti antiproiettili per andare in giro ma iniziano anche ad usare tutti i soldi a cui adesso avevano accesso iniziano a spendere i soldi dei loro genitori da subito il 24 agosto che era il giorno prima del funerale di Kitty e José Lyle si compra tre Rolex e al funerale si presentano tutti e due con questi vestiti nuovi orologi nuovi e arrivano anche in ritardo iniziano a comportarsi in modo strano e le persone lo notano Lyle fa diverse battute sul fatto di dover adesso ricoprire i panni del padre in inglese si dice mettersi nelle scarpe di una persona e fa diverse battute perché in quel momento lui stava indossando le scarpe di suo padre e le persone trovano queste battute un po' di cattivo gusto e strane dopo il funerale i fratelli continuano a spendere tutti questi soldi Eric fa avanti e indietro dal Messico e sempre in vacanza mentre Lyle si compra un'edizione limitata di una Porsche che aveva chiesto a suo padre di comprargli quando aveva preso la patente e suo padre si era rifiutato di farlo quindi adesso se l'era comprata da solo e Lyle compra anche un bar nel campus di Princeton e ad un certo punto assume un tecnico di computer a cui chiede di accedere al computer di Kitty e di eliminare dei file e questi file erano le ultime versioni del loro testamento quelle in cui avevano deciso di escludere i due fratelli Lyle decide di comprare altri bar crea proprio una catena di questo bar che aveva aperto a Princeton comprano anche due mega case in cui organizzano spesso e volentieri festini pieni di gente e si comportano in sostanza come se niente fosse successo e dopo soli sei mesi da quello che avevano fatto avevano speso più di 700.000 dollari che ricordiamoci questo è un caso successo un po' di tempo fa ad oggi sarebbero l'equivalente di un milione e mezzo di dollari e dovevano ancora ricevere l'eredità di José più la sua polizza sulla vita quindi probabilmente se avessero avuto più soldi li avrebbero spesi avrebbero speso ancora di più di quello che avevano già speso finalmente ad un certo punto la polizia hello buongiorno eh inizia a notare che i fratelli spendono e spandono come se avessero vinto alla lotteria e oltretutto più passava il tempo e più i fratelli sembravano sempre meno interessati alla risoluzione del caso si informavano sempre meno sulle indagini sembrava non fossero più così tanto preoccupati e spaventati di queste persone cattive che avevano ucciso i loro genitori allora la polizia inizia finalmente ad indagare sui fratelli Menendez e scoprono che i due avevano comprato delle armi due giorni prima dell'omicidio scoprono che avevano usato un documento falso per acquistarle e scoprono anche che avevano assunto quel tecnico di computer per eliminare tutti quei file dal computer di Kitty al che chiamano Craig vi ricordate l'amico di Eric con cui avevano scritto la sceneggiatura Friends? e gli chiedono di vedere Eric per pranzo e di fargli un po' di pressione vedere se riesce magari a farlo confessare quindi Craig ed Eric vanno a pranzo insieme e Craig inizia a fargli delle domande ti vede un po' nervoso cosa succede dai dimmelo dimmelo al che Eric finalmente confessa glielo dice gli abbiamo ammazzati noi gli racconta che all'ultimo lui non era riuscito ad uccidere Kitty e che Lyle era arrivato e l'aveva uccisa per lui ma Craig in tutto questo non aveva un microfono non stava registrando questa conversazione quindi questa confessione era totalmente inutile quindi la polizia sempre più in gamba decide di mettere un microfono nascosto addosso a Craig e gli chiedono di incontrare Eric di nuovo per pranzo e ripetere tutto scusa puoi ripetere? ti ricordi la cosa che mi hai detto l'altro giorno? puoi ripetere un attimo? non ho capito bene dei geni anche Eric che non è del tutto deficiente probabilmente si è insospettito e gli risponde no non è vero stavo scherzando haha che burlone ho sparato in faccia mia madre l'hai capita? una battuta no? quindi si rimangia tutto e Craig non riesce a registrare nulla allora la polizia parla con lo psicologo di Kitty e scoprono che Kitty nell'ultimo periodo soprattutto era molto spaventata dai suoi figli così tanto che la notte quando andava a dormire si chiudeva chiave nella sua camera da letto Kitty aveva raccontato di aver paura dei propri figli perché pensava fossero due psicopatici che sicuramente lo saprete ma uno psicopatico è un individuo che non è capace di provare rimorso ho senso di colpa non riconosce i diritti degli altri è bugiardo, aggressivo può essere pericoloso non per forza tutti quelli che sono psicopatici vanno in giro a uccidere la gente per carità ma Kitty racconta queste cose è il suo psicologo che era spaventata ora vi ricordate che Eric era stato costretto dalla polizia ad andare in terapia dal dottor Ozil che vi ho detto che sarebbe stato importante più tardi bene, adesso è più tardi Eric continua ad andare dal dottor Ozil anche quando non è più obbligato dalla legge e secondo il dottor Ozil Eric stava soffrendo di una forte ansia un forte stress così tanto che gli aveva causato un'ulcera e probabilmente il dottor Ozil aveva intuito che i due fratelli centrassero qualcosa con la morte dei loro genitori quindi inizia diciamo a fargli un po' di pressione cerca di farlo parlare della questione e lo fa facendogli delle sedute molto informali un giorno lo prende e lo porta a fare una passeggiata in un parco chiacchierando come se fossero due amici e questa cosa funziona perché ad un certo punto Eric si ferma e gli dice siamo stati noi, abbiamo ucciso i nostri genitori e gli racconta tutto nei dettagli gli dice che dopo averlo fatto lui e Lyle sono usciti di casa sono andati a cambiarsi i vestiti mettersi dei vestiti puliti che si erano preparati sono andati al cinema per avere un alibi al che il dottor Ozil gli chiede di chiamare Lyle e di farlo venire nel suo ufficio così che può parlare anche con lui e Lyle in tutto questo non aveva idea che suo fratello stava confessando tutto al suo psicologo e quando arriva lì e lo scopre si arrabbia parecchio il dottor Ozil gli dice che gli vuole aiutare gli vuole stare vicino ma in realtà si mette a registrare segretamente tutte le loro sessioni e dice anche alla sua segretaria che era anche la sua amante al tempo di stare attenta da fuori di cercare di ascoltare di origliare in modo da poter chiamare aiuto nel caso in cui succedesse qualcosa e Lyle era così tanto arrabbiato per il fatto che questo dottor Ozil adesso sapeva tutto che lo minaccia e gli dice che se avesse raccontato qualcosa a qualcuno lui l'avrebbe ucciso proprio come ha ucciso anche José e Kitty e il dottor Ozil invece di andare subito alla polizia non dice niente continua a vedere i fratelli a fare delle sedute con loro e a registrare tutto ma ad un certo punto ad andare dalla polizia è stata proprio la sua amante e denuncia tutto i fratelli e anche il dottor Ozil per il fatto che sapesse tutto ma non li aveva denunciati e dice di averlo fatto come sorta di ripicca contro il dottor Ozil perché diceva che lui la trattava molto male era molto violento con lei e quindi anche lei aveva deciso di fare tie e io ce lo dico alla polizia quindi adesso finalmente la polizia sa che sono stati i fratelli Menendez a compiere questo crimine e hanno anche le prove hanno le registrazioni del dottor Ozil che ovviamente prendono e mettono al sicuro e l'8 marzo del 1990 una dozzina di poliziotti ferma Lyle Menendez mentre stava parcheggiando la sua macchina davanti casa lo fanno sdraiare per terra a faccia in giù gli mettono le manette e lo arrestano invece Eric in quel momento si trovava ad Israele per un torneo di tennis e lo chiama l'avvocato di Lyle e gli dice di salire subito su un aereo e tornare a casa e quando Eric riceve questa telefonata la gente che era lì dice che Eric inizia a piangere in modo incontrollabile ma alla fine lo fa torna a casa e si costituisce durante la chiamata in giudizio i due fratelli arrivano nell'aula di tribunale vestiti di tutto punto con questi completi molto eleganti e con questo atteggiamento di supponenza non sembravano per niente preoccupati avevano quest'aria spavalda sorridevano non sembrava si rendessero conto di quello che stava succedendo e di quello che avevano fatto e addirittura quando il giudice che era una donna gli legge le loro accuse e gli comunica che la pena sarebbe anche potuta essere la morte questo giudice aveva una voce un po' stridula un po' nasale un po' buffa diciamo e i due fratelli quasi le scoppiano a ridere in faccia come due ragazzini si lanciano sguardi di intesa e palesemente cercano di non ridere mentre si dichiarano non colpevoli a quelle accuse e l'accusa e la difesa hanno discusso molto perché non riuscivano a decidere se usare o no le registrazioni del dottor Oseo nel processo cioè le cassette in cui i due ragazzi confessavano che avevano compiuto l'omicidio la difesa sosteneva che non si potevano usare perché in quel modo avrebbero violato la privacy che c'è tra paziente e dottore e che quindi non erano prove ammissibili mentre invece l'accusa sosteneva che si trattava di due assassini che avevano confessato quindi ovvio che erano prove ammissibili perché in questo caso la privacy tra dottore e paziente non esiste più non vale più alla fine la Corte Suprema decide che due delle tre registrazioni possono essere usate come prove nel processo e in una di queste c'era proprio la confessione di Lyle e l'unico motivo per cui hanno deciso di usare queste registrazioni è stato perché Lyle aveva minacciato di morte il dottor Oseo perché dunque non so se la legge nel frattempo è cambiata mi auguro di sì e non so se in Italia funziona uguale mi auguro di no ma comunque in questo caso il punto era che se per esempio io confesso al mio psicologo di avere intenzione di uccidere qualcuno allora il mio psicologo è autorizzato ad infrangere il rapporto confidenziale che c'è tra medico e paziente e può rivolgersi alla polizia ma se invece io confesso al mio psicologo di aver già ucciso qualcuno questo è assurdo solo a dirlo mi sento scema ma è così ve lo giuro era così in questo caso poi ripeto non lo so spero sia cambiato quindi se io confesso al mio psicologo di aver già ucciso qualcuno allora allora lui non può dire nulla perché non è un pericolo imminente perché quella persona è già morta e quindi in questo caso quando gli avvocati chiedono al dottor Osio perché non hai denunciato i ragazzi subito quando ti hanno detto il fatto lui ha risposto in questo modo perché non c'era il pericolo imminente che qualcun altro morisse e quindi per legge io non potevo dire nulla ma siccome Lyle ha minacciato di morte il dottor Osio e quindi c'era diciamo un pericolo imminente che qualcun altro morisse allora per legge il dottor Osio avrebbe dovuto denunciare alla polizia e questo giustifica il fatto che due cassette su tre potranno essere usate nel processo spero di essermi spiegata perché meglio di così non sono in grado scusatemi ma in realtà c'è tanta gente che crede che il dottor Osio non sia andato subito dalla polizia perché aveva intenzione di usare queste registrazioni in un futuro per ricattare i fratelli e magari chiedergli dei soldi potrebbe essere possibile non lo sappiamo questa è solo una teoria che è stata discussa anche nel processo state attenti perché questa è la parte più controversa di tutte il vero mistero di questo caso di cui poi vorrò sapere la vostra opinione comincia qui dato che appunto due cassette su tre possono essere usate come prove e queste cassette contengono la confessione dei ragazzi i ragazzi non possono più far finta di non aver ucciso i propri genitori perché ci sono le prove e quindi nel luglio del 93 viene dichiarato per la prima volta che Eric e Lyle avevano ucciso i propri genitori per legittima difesa dopo aver passato una vita di abusi mentali fisici e sessuali da parte del loro padre José e avevano ucciso anche Kitty perché quanto pare lei sapeva tutto ma non ha mai fatto niente per impedirlo e quando è stata fatta questa dichiarazione ovviamente i media sono impazziti ovviamente tantissime persone hanno pensato fosse una strategia mentre invece tante altre hanno pensato che fosse tutto vero il processo comincia il 20 luglio del 1993 dieci giorni dopo questa dichiarazione e hanno fatto due processi separati uno per Lyle e uno per Eric con due giurie separate ma nella stessa stanza e allo stesso momento comunque ovviamente la gente era ossessionata da questo caso era un mega dramma e la gente non ne aveva mai abbastanza questo anche perché avevano deciso di trasmettere il tutto in diretta tv quindi era come se fosse un reality show ovviamente che ve lo dico a fare la gente faceva la fila fuori dal tribunale dalle 4 del mattino le ragazze si strappavano i capelli manco si trattasse di Leo e Brad e quando il processo inizia i due fratelli arrivano in aula non erano uguali a quella prima volta in cui si erano presentati in aula con i completi da migliaia di dollari e l'atteggiamento strafottente questa volta indossavano maglioncini color pastello con il collettino della camicia che usciva fuori e si comportavano come due agnellini impauriti non sorridevano più erano visibilmente stanchi comunque a questo punto erano già in prigione e si vedeva che non stavano vivendo bene avevano anche perso palesemente peso e la loro vita in prigione non era facile perché gli altri detenuti potete immaginarlo li odiavano li rendevano la vita veramente difficile e pare che abbiano dovuto pagare per essere protetti in prigione comunque l'avvocato della difesa si chiamava Leslie Abramson ed era uno degli avvocati più tosti che esistessero e voleva dimostrare appunto che José faceva violenza sui suoi figli e che il motivo per cui loro lo avevano ucciso era perché si sentivano in pericolo di vita e pare che fosse parte della strategia di questo avvocato il vestire i due fratelli in questo modo per farli sembrare più giovani e di conseguenza per farli sembrare più innocenti e questa è una strategia che molte volte viene usata Eric e Lyle in tribunale raccontano e descrivono questi abusi che dicono di aver ricevuto da parte di José e quello che raccontano è davvero orribile e scioccante raccontano che appunto José li violentava da quando erano molto piccoli e che Kitty non ha mai fatto niente per impedirlo perché nel frattempo era troppo alienata da tutti gli psicofarmaci che prendeva e dall'alcol raccontano anche che Kitty era una pessima casalinga e che la casa era perennemente sporca nel senso che da quando i fratelli erano piccoli in giro per casa si potevano trovare spesso feci di tutti gli animali che possedevano e quindi c'erano feci in giro per la casa che non venivano mai pulite il che mi fa strano perché avranno avuto 200 donne delle pulizie forse no mi sembra un po' strano comunque raccontavano questo che erano cresciuti nella sporcizia di continuo perché Kitty non era in grado di essere una madre era troppo stordita dalle medicine un'altra cosa terribile che racconta Eric è che da piccolo aveva un coniglietto e che una mattina si è svegliato e l'ha trovato morto con la testa fracassata e che erano stati Kitty e José a farlo ed Eric era rimasto così traumatizzato da questo fatto che ha bagnato il letto fino all'età di 14 anni e racconta che quando questa cosa succedeva José e Kitty prendevano le lenzuola sporche e le mettevano sul tavolo come tovaglia per colazione in modo da umiliare Eric per quello che aveva fatto raccontano che Kitty aveva spesso minacciato di volerli avvelenare e che faceva delle ispezioni ai genitali dei due fratelli ogni anno fino all'età di 15 anni fanno ovviamente testimoniare sia Eric che Lyle in tribunale e le testimonianze sono davvero davvero sconvolgenti che ci si creda oppure no le cose che raccontano il modo in cui le raccontano sembrano davvero sinceri raccontano di queste cose orribili nei dettagli e piangono piangono tantissimo coi lacrimoni non sembra stiano fingendo raccontano che sono appunto entrambi stati violentati diverse volte da José che usava anche oggetti per farlo e che ad un certo punto José smette di fare violenza su di loro ma che dopo un po' di tempo ricomincia a farlo ma solo su Eric ed Eric sostiene che ad un certo punto prende coraggio e ne parla a suo fratello Lyle e gli dice tutto gli dice che José ha ricominciato a fargli violenza e Lyle sostiene di essere andato da José dicendogli di lasciare in pace Eric e che se non l'avesse lasciato in pace allora lui avrebbe raccontato a tutti queste cose e pare che José gli abbia risposto che Eric era suo figlio e ci faceva quello che voleva quindi quello che Eric e Lyle sostengono e che di risposta a questo affronto José e Kitty avessero deciso di ucciderli sostengono che erano quel tipo di persone che avrebbero preferito uccidere i propri figli piuttosto che infangare la reputazione della famiglia con uno scandalo del genere e sostengono che il giorno prima dell'omicidio vi ricordate che vi ho detto che erano andati tutti insieme sullo yacht in mare quel giorno pare che i fratelli fossero convinti che li avevano portati su quello yacht col fine di ucciderli erano convinti di questo convinti di essere in pericolo al che il giorno dopo hanno deciso di ucciderli prima loro ora il punto è che i fratelli Menendez non hanno mai parlato a nessuno di questi abusi neanche allo psicologo Oseo a cui comunque nelle sedute avevano parlato dell'omicidio nei dettagli neanche nelle sedute in cui svisceravano il motivo per cui avessero ucciso i genitori e quando Oseo gli aveva chiesto perché l'avevano fatto loro avevano risposto che avevano ucciso José perché lo odiavano e Kitty perché gli faceva pena e che tanto si sarebbe uccisa prima o poi da sola e quindi in questo modo è come se le avessero fatto un favore c'è però una persona che sostiene che questi abusi siano veri ed è una cugina dei fratelli Menendez che hanno chiamato a testimoniare e racconta che quando erano piccoli Lyle era andato da lei e le aveva detto mio papà mi ha toccato qua indicando le sue zone intime al che la cugina dice di averlo riferito immediatamente a Kitty e che però da lì non sa non sa che cosa sia successo perché non ne hanno mai più parlato fanno testimoniare anche Craig l'amico di Eric con cui avevano scritto la sceneggiatura Friends e di come quella sceneggiatura fosse la prova che quel delitto era stato premeditato e non legittima difesa ma decidono che la sceneggiatura non era una prova ammissibile perché era stata scritta troppo tempo prima rispetto all'omicidio e che quindi non aveva nessun collegamento cioè la sceneggiatura descriveva esattamente quello che poi è successo ed Eric l'aveva scritta solo un anno prima però niente non era una prova ammissibile una cosa che è venuta spesso fuori durante il processo è stato questo film di nome The Billionaire Boys Club che era un film uscito tre settimane prima dell'omicidio e Dottor Osio sostiene che i ragazzi gli avevano detto in una delle sedute contenute nella cassetta che non hanno usato durante il processo che quel film li aveva ispirati a commettere l'omicidio perché era molto simile a quello che era successo parlava di questi ragazzi molto ricchi che abitavano a Beverly Hills e che uccidevano il padre per soldi e i protagonisti indossavano gli stessi vestiti gli stessi orologi dei fratelli Menendez e guidavano le stesse macchine e non solo perché questo film era stato prodotto dalla Live Entertainment la casa di produzione per cui lavorava José ora il processo è stato lunghissimo e se vi raccontassi tutti i dettagli staremmo qua fino a Natale si conclude nel gennaio del 94 e la giuria ha deliberato per un mese perché non riuscivano a decidere se era stato un delitto premeditato oppure no quindi alla fine hanno dovuto annullare il processo e farne un altro per tutti e due i fratelli il secondo processo inizia nell'ottobre del 1995 ma questa volta non erano più due giurie separate due processi separati era solo una giuria unica e non hanno neanche permesso a tutti i media di presenziare di fare tutto il casino che avevano fatto il primo processo questa volta volevano tenere un profilo un po' più basso gli argomenti di questo processo ovviamente erano praticamente gli stessi anche se questa volta si sono concentrati un po' di più sul dottor Oseo e sul fatto che non avesse denunciato subito i fratelli e si sono formulate appunto quelle teorie per la quale forse il dottor Oseo stava raccogliendo queste testimonianze per poi ricattarli e alla fine gli hanno fatto perdere la licenza che penso sia stata una cosa giusta e alla fine quello che ha fatto prendere una decisione definitiva alla giuria è stato il fatto che Eric aveva dichiarato che non avevano comprato le armi due giorni prima del delitto quelle erano armi che avevano comprato tre anni prima per legittima difesa in generale e che avevano usato quel giorno nell'impeto del momento ma l'accusa è riuscita a dimostrare che il negozio da cui Eric diceva di aver comprato queste armi non era neanche aperto tre anni prima quindi diciamo che questa mossa ha accentuato il fatto che i due fratelli fossero due bugiardi compulsivi al che la giuria si ritira per deliberare e delibera per tre settimane e il verdetto vede Eric e Lyle colpevoli di omicidio di primo grado decidono che la teoria della legittima difesa non stava in piedi e che tutta la storia degli abusi fosse una bugia e vengono condannati infine tutti e due all'ergastolo e i fratelli avevano chiesto almeno di poter essere messi nella stessa prigione privilegio che invece gli è stato negato sono stati mandati in due prigioni diverse e non si sono rivisti per decenni e questa cosa per loro è stata molto difficile perché erano davvero tanto legati hanno provato spesso a fare ricorso ma gli è sempre stato negato sia Eric che Lyle nel frattempo si sono sposati in prigione Lyle ha sposato Anna Erickson nel 1996 ma nel 2001 Anna scopre che Lyle la stava tradendo dalla prigione a quanto pare scriveva ad altre donne quindi Anna chiede il divorzio ma nel 2003 Lyle si sposa con un'altra donna di nome Rebecca Eric invece si è sposato nel 1999 con una donna di nome Tammy che ha rilasciato un'intervista nel 2005 dicendo che quella relazione era una cosa che lei stava aspettando da molto tempo ha persino pubblicato un libro di cui non credo esista un titolo italiano comunque tradotto si chiama avevano detto che non ce l'avremmo mai fatta la mia vita con Eric Menendez e i fratelli hanno anche rilasciato un'intervista per People Magazine che è una rivista americana molto molto famosa di gossip e raccontano che anche se si trovano in due prigioni diverse riescono comunque a comunicare attraverso le loro mogli addirittura giocano a scacchi attraverso le lettere che si mandano attraverso le loro mogli e nel 2018 sono riusciti finalmente a rivedersi perché Lyle è stato trasferito nella prigione in cui stava Eric e a quel punto erano ben 22 anni che non si vedevano e la gente che ha assistito alla scena dice che quando i due si sono rivisti si sono abbracciati per tantissimo tempo in silenzio piangendo in modo incontrollabile e ci sono diversi membri della loro famiglia che credono al fatto che i fratelli abbiano subito abusi da Kitty e José e questo è quello che rende questo caso così controverso perché appunto molte persone pensano che sia stata tutta una strategia per ottenere una pena ridotta molte persone invece credono al contrario credono che la storia degli abusi sia assolutamente vera e a questo punto lo chiedo a voi voi che cosa pensate io vi dico la verità non so che cosa credo sapevo la storia e all'inizio ero convinta che fossero tutte bugie perché è una cosa che avevo già visto anche in altri casi che ho trattato su questo canale se ricordate Jody Arias a un certo punto ha detto che i suoi genitori la molestavano da piccola anche Suzanne Richthofen che anche lei aveva ucciso i genitori a un certo punto ha detto ah sì l'ho fatto perché loro mi violentavano da piccola in cui i casi era palesemente una strategia un modo per avere una pena ridotta in questo caso potrebbe essere però effettivamente guardando le testimonianze sono davvero convincenti e potrebbe essere che se fosse vero il motivo per cui non hanno mai detto niente a nessuno in realtà potrebbe essere perché il padre li aveva educati così gli aveva insegnato che non bisogna essere deboli che gli uomini non possono piangere che non ci si deve lamentare che bisogna tenersi tutto dentro perché mostrare emozioni e appunto mostrare debolezza potrebbe essere che questi due magari sono stati davvero vittime di abusi e che sono davvero riusciti a non raccontare mai niente a nessuno perché sono stati educati così a tenersi tutto dentro hanno comunque ricevuto diciamo un lavaggio del cervello su come reagire allo stress e allo stesso modo José li ha addestrati a mentire a vincere ad ogni costo quindi potrebbero benissimo essersi inventati tutto per vincere la causa e abbiano ucciso i genitori per il semplice fatto che diciamoci la verità erano dei genitori di me con questo ovviamente lo dico lo sottolineo non li giustifico assolutamente essere dei cattivi genitori ovviamente non giustifica un omicidio nessuno merita di morire dico solo che una persona cresciuta in modo umano se odia una persona non arriva a ucciderla ma due persone cresciute addestrate al non provare emozioni potrebbero reagire all'odio in una maniera diversa potrebbero uccidere perché hanno imparato appunto a non provare emozioni quindi a non provare rimorso penso che siano stati addestrati ad essere due psicopatici quindi non so se la storia degli abusi sia vera oppure no ma in ogni caso non mi sorprende che abbiano ucciso José e Kitty in realtà non mi sorprende per niente purtroppo José e Kitty hanno cresciuto due mostri e alla fine ne hanno pagato le conseguenze ad un prezzo che nessuno dovrebbe pagare per oggi è tutto wow questo video sarà veramente lunghissimo come piace a voi mi avete chiesto tantissimo fai video più lunghi accontentati grazie di aver passato il tempo con me anche oggi ci vediamo venerdì con un nuovo video ciao 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 Grazie a tutti.